Continua a buon ritmo lo screening di massa nei comuni della provincia di Pescara. Qui siamo a Collecorvino dove i test sono cominciati lo scorso 4 gennaio e ad oggi sono stati processati circa 700 tamponi rapidi del tipo rino-faringeo individuando 11 casi sospetti positivi che presi in carico dalla ASL di Pescara si sono sottoposti già al tampone molecolare. La popolazione ha risposto benissimo perché ha capito l'importanza di questo screening preventivo di massa per individuare e preservare le altre persone individuare i sospetti positivi. È vero il primo giorno ci siamo un po' spaventati perché nella sola mattinata dopo 80 tamponi 10 sospetti positivi. Dopo per fortuna la situazione è migliorata e ad oggi fino a questa mattina abbiamo processato circa 700 tamponi, 690 per l'esattezza e proprio questa mattina è uscito un altro sospetto positivo. Molti ragazzi, soprattutto studenti, in questi giorni si sono sottoposti al test soprattutto in vista della riapertura in sicurezza delle scuole. Questa mattina di proposito l'abbiamo fatto anche il 7 perché riaprono le scuole a Collecorvino e ringrazio le insegnanti che si sono sottoposti al tampone rapido anche quelle persone che non risiedono a Collecorvino ma sono fuori paese quindi c'è stata una grande risposta. L'amministrazione comunale ha già comunicato alla ASL l'intenzione ad andare avanti con i test valutando la possibilità di spostarsi nelle periferie del territorio comunale. Dobbiamo solo decidere se spostarci o meno da questo posto qui per andare verso le periferie per ridurre la mobilità. Io li ringrazio di cuore queste persone che ci hanno dato la disponibilità ringrazio di cuore la misericordia di Collecorvino e Moscufo che ci hanno dato il supporto con gli amministrativi e alcuni ragazzi che hanno dato una mano e quindi il grazie va a loro sicuramente e alla popolazione che ha aderito.